E salve a tutti e benvenuti alla... alla... che numero siamo arrivati? Centesima! Ah già, centesima edizione di questa rottura di Sanremo! Ma prima di presentare gli ospiti, vi voglio presentare alla mia spalla destra il carissimo Tanuchino! Ciao figli, non vedo l'ora di sfidarti a Mario Kart e distruggerti! Ma quale Mario Kart Tanuchino presenta gli spettatori e basta! Ah ah ah, quanto è spiritoso Tanuchino, ridete, ha fatto la gag! Porco cane, mi sa che Tanuchino non ha capito una mazza! E ciao a tutti, volevo dire che io sono molto bravo a giocare a Mario Kart! Tanuchino presenti gli ospiti, ti butto fuori a pelate! Ah ah ah, Tanuchino sei veramente una spalla divertentissima! Ma adesso per favore, presentiamo questi ospiti che sono anche i congorenti in gara! Eccoli qua i nostri nove fantastici cantanti che ci porteranno canzoni bellissime! E adesso presentiamoli a uno a uno! Tanuchino porca miseria, devi dire te qualcosa ora! Ma figli, io non mi ricordo niente, pensavo che dovevamo giocare a Mario Kart stasera! Tanuchino porca miseria, ma sei completamente fuori di testa! Tanuchino porca miseria, ti strangolo! Stai rovinando la serata! Ah sì, ora mi ricordo! Il primo concorrente in gara si chiama Scroscio Italia! Con la sua canzone Kimmenfut! Quando è bello giocare dalla mattina alla sera! Con i gioi di sti e che mano è bene foto! Finì, ma chi è questa gran cacata? Bellissima canzone! Che schifo! Però è bellissima veramente! Adesso passiamo al prossimo brano! Speriamo sia meglio ovviamente! Il prossimo concorrente in gara è Mashgold! Che porterà la sua fantastica Mashio Io! E mi sento Mashio Man! Sono il più furbo, il più furbo di te e anche degli altri! Io mi sento re del re! Nessuno mi può capestare! Io posso fare tutto, tutto di tutto! Piscare a terra, piscare in aria! Mi sento troppo Mashio! Sono io! Finì, ti giuro un'altra canzone di questa e mi strappo tutti i capelli! Grazie mille Mashio Gold per la tua canzone! Se si può chiamare canzone sto schifo! E beh, adesso Tanuchino, presenta l'altro concorrente! Io vado a prendermi una pausa! Ok, presentiamo l'altro cantante in gara! Abbiamo il nostro cantante numero tre! Che sarebbe... Come si chiama? Giovannina! Ah già, Giovannina Coscialunca! Che cagnici, Giovannina e basta! Eh sì, sì, quello che è, Giovannina e basta! Dimmi perché, 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 perché la lavatrice non funziona e noi l'abbiamo comperata! Che mi sto facendo un culo, culo, culo così a lavare tutti i panni a mano! Ma porca miseria, Filippo è terrificante! Ma queste che canzoni sono? Eh, scusa, eh no no, scusa, non ti stavo ascoltando che stavo ascoltando delle veri canzoni! Eh, presenta tu il prossimo, dai! Io ti raggiungo tra poco! Ok, ok, Filippo, allora il prossimo cantante in gara sarà... Maomut... Maom... 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 Maomut Sam! Eh sì, sì, proprio quello che è, Maomutto Sam! Tanuchino porca misera stai facendo schifo questa sera! Ti posso assicurare che non presenterà neanche la sagra del prosciutto il prossimo anno! Tu vuoi comprare una rosa e costo un euro al mazzo! Quante belle rosa, signora rosa è cazzo! Ma io non ho capito, ma stavo vendendo le rose? Oppure era un vero cantante in gara? Porco cane, un intruso! Aspetta che ci penso io! Bene, proseguiamo con la gac... Ma che cacchio è successo? Tranquillo, figlio, è solo ombrella mene che ha sparato l'indruso che stava vendendo rose illegalmente! Questo festival è truccato! Lo vingerà Scroscio Italia! Oh no, ma chi è quel pazzo? Sposta la testa, Tanuchino, che gli faccio la festa anche a lui! Bene, passiamo... Oddio... Agli ospiti internazionali! Speriamo che non siano scappate quelle stesse fucilate! Ed ecco qua! Laura e David! Direttamente from Germany! Hi Laura! Hi David! Eh... Eh... Tanuchino, porca miseria, tocca a te! Gli devi fare le domande in inglese! Ma chi? Io? Ma se io non so neanche il dialetto del mio paese! Che cacchio vi devo dire? Tanuchino, ti giuro che premerò il grilletto anche su di te se non dici una parola! Ok, ok, va bene... And... What's your name? Tanuchino, me l'ho appena detto io, sono Laura e David, ma sei sordo! Fai un'altra domanda! Eh... Ok, Laura e David, what's there a fare in... Sanremo? Eh... What? I don't understand nothing! What the fuck is it? Laura, let's get out of here! Ah, ok, it's very pleasure for me, and... Tanuchino non hai capito niente, se ne sono andati! Ma come se ne sono andati? Io avevo fatto le domande in inglese, come avevi detto te? Basta, sto portato fin troppo! Porro fine alle mie sofferenze e... Morirete tutti! No, aspetta, un prego! Ciao Magic Phillips, come va? Come stai?